Torniamo a parlare di Sacco, ovviamente in positivo perché questa è la giornata in cui sarà tenuta fede ad una promessa, quella che fece l'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, al sindaco di Sacco, Franco Latempa. Sindaco De Blasio oggi onorerà questa promessa e i sacchesi. Eh sì, questa è una promessa che chiedemmo allora al sindaco di New York, Billy De Blasio, nel 2019 quando ci siamo recati in visita alla nostra splendida comunità sacchese di New York per i cento anni della fondazione del club gioventù sacchese d'America. e noi venimmo ospitati in maniera veramente familiare ed entusiasta dal sindaco di New York nella City Hall della città e in quell'occasione si parlò di tutto ed eravamo accompagnati dal nostro concittadino Mario Macchiarulo che ha un'intimità forte con l'ex sindaco di New York, è stato il suo barbiere ma è stato anche il suo punto di riferimento soprattutto nel periodo della sua adolescenza e della prima giovinezza. Questa amicizia è andata avanti e infatti mi ricordo che l'indomani, una sera mi sembra di gennaio del 2014, tutto ad un tratto vidi comparire sullo schermo la faccia con quel sorriso allegro e splendente del mio compare Mario Macchiarulo intervistato al TG1 che raccontava la sua amicizia con il sindaco di New York e perciò si trovava lì. Fu qualcosa di sconvolgente, di bello, immediatamente lo chiamai e da allora abbiamo sempre cercato di creare questo rapporto, siamo stati ospitati lì, ci ha trattenuto per molto, ci ha presentato la moglie, il figlio Dante che quel giorno compiva gli anni e quindi stavano festeggiando il compleanno, è stato qualcosa misso tra un incontro diciamo istituzionale e soprattutto un'atmosfera familiare e questo è quello che regala la comunità sacchese, quella familiarità e quella capacità di integrarsi e di essere dappertutto. Sindaco, questo è l'anno dedicato al turismo delle radici, lei lo accennava, sono tantissimi sacchesi nel mondo, come si sta preparando sacqua a riaccoglierli? Devo dire la verità, noi siamo in vantaggio perché la questione del ritorno, degli affetti, delle origini, delle radici l'abbiamo nel nostro DNA e infatti già nel 2019 quando siamo stati a New York lo abbiamo fatto per questo, per cominciare a creare dei legami sempre più forti con le nostre comunità e allora in quell'occasione stabilimmo anche di creare dei rapporti con le altre comunità soprattutto in Sud America e in Brasile e a compimento di questo quest'anno abbiamo fatto anche un'altra che io considero una bellissima iniziativa che è quella di insieme ai nostri concittadini sacchesi di New York abbiamo fatto costruire una piccola immagine della nostra Madonna degli Angeli e ne abbiamo fatto dono alla nostra comunità di Niteroi in Brasile che conta qualche migliaio di sacchesi e di origini sacchesi, una città vicino a Rio de Janeiro con circa 600-700 mila abitanti. L'abbiamo benedetta, qui abbiamo fatto una bella funzione, poi è stata spedita, in questi giorni è già arrivata e dovrebbe essere aperto il plico e lì anche faranno una bella cerimonia di arrivo. Quindi noi ci teniamo molto al turismo delle radici perché Sacco è nelle radici Sacco è in Argentina, è nel Sud America, quindi in Venezuela, Brasile, addirittura Uruguay e Paraguay dei legami che si erano persi ma che attraverso gli anagrafi internazionali insomma vengono fuori queste origini incredibili fatte di secoli. Dicevo prima che effettivamente la nostra comunità sacchese a New York nel 1883 nella Little Italy contava 300 componenti con al seguito un sacerdote. Abbiamo sacchesi dappertutto in Europa, in Francia, in Germania, in Svizzera e anche qui in Italia. È una bella comunità e io dico sempre Sacco oramai è dappertutto, non si è sperso, non si è smarrito, semplicemente è andato un po' dappertutto e noi non dobbiamo fare altro che raccoglierci intorno alle nostre origini e intorno a queste situazioni effettive bellissime che possono creare dei momenti di incontro è un turismo delle radici che può portare anche in sviluppo per i nostri territori. Un paese come questo è tanto importante, tanto bello ma anche c'è opportunità in altri posti, in altri paesi è un misto sempre ma la cosa a me è importante ricordare e tornare all'origine. C'è un segreto per amministrare bene un grande e un piccolo comune? Ah, il sindaco qua capisce che è la verità in tutto il mondo. Lui quando, quando mi interrompo un attimo, quando siamo andati a fargli visita e ci ha accolti, ci ha fatto sedere in gertio non lui dietro la schivanea, ricordi, hai voluto proprio stare con noi e mi ha detto la prima cosa che mi ha detto guarda tu sei sindaco di un piccolo paese, io sono sindaco di una grande città, ma i problemi sono gli stessi c'è sempre qualcuno che ne sa più del sindaco, c'è sempre qualche problema da risolvere e quindi credo che poi dopo alla fine i problemi diciamo che bisogna risolverli allo stesso modo. E anche la verità con sindaci in tutto il mondo, la verità umana è lo stesso, c'è bisogno e abbiamo fatto una decisione di aiutare in un modo che non è facile. Sare vicino ai cittadini. Sì, un lavoro bellissimo ma non facile in ogni paese. Noi sappiamo che lei è molto legata alla campagna, è vero che ti fa Napoli? Ah, Napoli, sono un gran tifoso di Napoli e per me quest'anno è un anno meraviglioso, un anno di giustizia, di giustizia per la città di Napoli e anche per la squadra. Sono stato alla celebrazione, è stata una donna incredibile, è incredibile. E durante la mia visita a Napoli, alla città, per vedere questa celebrazione, per vedere i bandieri, tutto questo, è molto emozionante. Il mio massaggio è forza Napoli, sempre! Sindaco De Blasio, com'è che si rinforza il legame con le comunità tra Italia e Stati Uniti d'America in questo caso? E Sacco ne è un esempio. Ah, c'è una relazione fortissima. America, negli Stati Uniti, a questo punto è importante ricordare che tutta la fortezza degli Stati Uniti è perché gli immigranti, e gli immigranti italo-americani sono una grande parte del successo degli Stati Uniti. Non è possibile pensare degli Stati Uniti senza la contribuzione degli italiani. Questa è la verità. La relazione è molto, molto forte e continua. Sopra, sopra, sopra! Ok! Le porte della chiesa sono sempre difficili da aprire. Grazie!